VENEZIA Da secoli, Venezia ha ispirazione per le nuove generazioni. E oggi? Quale memoria della città ci consegna un attore che ha studiato, conosciuto e lavorato con i grandi della cultura del Novecento? E come parla ad una giovane musicista come Ani Arani? Decadente e d'avanguardia, in bilico sempre fra dissoluzione e progresso. Tutto qui è legato alla storia e le vicende di mille avanguardie ti vengono incontro. Chi abita in questa città, chi studia, chi lavora, sente la pressione forte della storia. Convivono all'interno di uno stesso luogo, epoche diverse. Significa quasi essere fuori dal tempo, fuori dalle regole. Writer, artisti, c'è molto intercambio e comunicazione tra l'anno e l'anno. La modernità è che si collapsa, questo è la modernità. C'è vero che Roma ha un patrimonio, sans doute, il più importante del mondo, ma Venese non entra in categorie classiche. È l'anno. A Venezia, ogni angolo, ogni canale ti spinge verso una dimensione onirica. Più l'attraverso e la scopro, più mi sembra un'invenzione fantastica che può esistere solo nei libri. Più l'attraverso e la scopro, più mi sembra un'invenzione fantastica che può esistere solo nei libri.